Benvenuti nella seconda puntata di Atleti Caffè, ovvero il video molto più discorsivo rispetto alle news della settimana in cui ci sono approfondimenti, riflessioni a riguardo e magari anche qualche piccola news che ieri mi è sfuggita. Vi ricordo che questo è un video molto discorsivo, non c'è praticamente nulla da vedere, lo si può intendere praticamente come un podcast. Infatti devo ancora valutare se metterlo o no su Spotify perché in realtà si presterebbe bene. Comunque partiamo dalla cosa principale che è successa questa settimana, ovvero la tappa della Diamond League. E' la tappa che c'è stata ancora in Cina, la seconda del circuito di quest'anno, si è trattata della tappa di Shunzu, che in realtà non è che abbia particolarmente brillato come risultati. In realtà così come è stata la settimana precedente per quanto riguarda Xiamen. Tappa che aveva fatto molto parlare di sé perché c'era stato il record del mondo di Duplantis, ma poi non è che ci siano stati grossi risultati. E in realtà Shunzu si presenta ancora molto simile. Per dire, nella gara di salti lungo c'erano comunque atlete vicinissime ai 7 metri come primato personale. Però la gara è stata vinta con misure un po' più modeste, più... non dico mediocre perché comunque 6,68 non è mediocre. Ma comunque rispetto alla Diamond League si pensa che sia il massimo circuito internazionale e tutto. Non hanno brillato i risultati. Ha vinto l'atleta del Burkina Faso, Marte Koala, con appunto 6,68. Ed è stata anche l'unica atleta sopra i 6 metri. Alla fine ha vinto l'atleta del Burkina Faso, Marte Koala, con la misura di 6,68 e tra l'altro è stata l'unica sopra i 6,60. Addirittura l'atleta brasiliana Eliane Martins, che ha un primato personale da 6,74, non è arrivata neanche ai 6 metri. In realtà le condizioni di queste gare non erano sfavorevoli. Perché se trattate comunque di gare intorno alle 5, 6, 7 di sera, o pomeriggio, anzi meglio dire di pomeriggio, c'erano oltre 20 gradi e l'umidità era tra il 60 e il 70%. Ok, non erano proprio le condizioni perfette per fare il record del mondo, ma comunque non erano brutte come condizioni. Il che fa pensare che forse sia la pista a non essere particolarmente brillante. Ma infatti poi anche nel saltilungo non ci sono stati risultati mostruosi. Ha vinto l'americano Markins Dandy con 8,05. Lui che ha un primato personale di oltre 8,40. Però l'importante è che in questa gara c'era anche il nostro Mattia Furlani, che secondo me si è difeso benissimo. Ha fatto 5 salti, tutti e 5 sopra i 7,70. Con il più corto ha fatto a 7,76, poi ha fatto anche un 7,77. Due volte 7,80 e un 7,88. Che appunto sono risultati comunque di 50 cm sotto al primato personale. Però lui anche nelle interviste post gara ha detto che non è che abbia fatto chissà quanta tecnica dopo i campionati mondiali indoor. Perché finiti i campionati mondiali indoor ha ricominciato la preparazione. E i campionati mondiali indoor non è che siano finiti 7 mesi fa. Due mesi fa ancora non erano stati svolti. Parliamo di una gara fatta all'inizio di marzo. E da lì a ricominciare subito la preparazione non è che puoi farla la settimana successiva subito tornato dai campionati mondiali indoor. Dopo un periodo di scarico dalla competizione avrà fatto poi tutta una ripresa per ricaricare un po' anche gli allenamenti. E adesso Furlani in realtà non serve assolutamente a nulla che salti 8,50 m. Perché siamo lontani ancora dalle cose importanti. E per lui le cose importanti quest'anno sono tre. Campionati europei dal 6 al 12 giugno. Giochi olimpici dal 1 all'11 di agosto. E campionati mondiali under 20 che saranno mi sembra a fine agosto. Quindi questa si tratta proprio di una gara fatta un po' per sbloccare la voglia di gareggiare durante la stagione all'aperto. E poi lui non deve neanche stare lì troppo a seguire i minimi di partecipazione. Visto che con l'8,34 fatto quest'inverno è bello che tranquillo va sicuro al 100% anche i giochi olimpici. Quindi non deve stare lì per forza a gareggiare in Diamond League per ottenere punti. Per sperare di essere nel ranking e tutte quelle cose che la maggior parte degli atleti deve valutare, deve fare. Poi gareggia in Diamond League perché comunque è il miglior circuito di atletica a livello mondiale. Si può confrontare con i migliori al mondo, con anche una certa diciamo pressione in gara che poi va un po' a simulare i campionati. Però siamo sempre lì, lui non deve per forza adesso saltare tanto. Già iniziare con un 7,88 e tutti i salti validi, tutti sopra il 7,76, secondo me si tratta di un ottimo esordio. Sempre in Diamond League a Shenzhou c'è stato il getto del peso femminile che, anche se è una gara poco considerata, è stata in realtà vincente. Ci sono state tante atlete tutte vicine sugli stessi risultati. O perlomeno il podio si è deciso in 20 centimetri. Ha vinto Chase Jackson che è un po' scontato che vinca lei, campionessa mondiale in carica negli ultimi due anni, e ha fatto un 20,03. Ma c'è stata anche Sarah Meaton, la canadese, che ha fatto 19,86, e la terza classificata, G1 Song, che ha fatto comunque 19,83. Il salto con l'asta uomini in realtà merita una riflessione a parte, perché c'è stato sì Mondo Duplantis che ha tentato il record con 6,25, sbagliandolo tre volte, però comunque l'ha provato. Ma ormai il fatto che ci sia Mondo Duplantis va ad uccidere totalmente la competizione. Cioè ormai siamo arrivati in un punto che se c'è Mondo Duplantis non si lotta più per loro, si lotta per il secondo posto. Che per carità è sempre bello vedere Mondo Duplantis che tenta il record del mondo, è sempre bello quando viene fatto il record del mondo. Però in un'ipotetica gara in cui Mondo Duplantis, che ne so, ha il cagotto e quindi non riesce a partecipare, quella gara lì per la maggior parte di chi segue l'atletica è una gara inutile, perché magari si vince con 5,85, 5,80, che sono misure di tutto rispetto, però ormai Mondo Duplantis ci ha abituati a saltare sempre 6 metri. Anche in questa gara ha fatto una gara pulitissima fino ai 6 metri, superandolo anche quello alla prima. Quindi sarebbe proprio bello avere qualcuno, non dico che lotta con Duplantis per avere il record del mondo, però che almeno a 6 metri, 6,10 metri ci arrivi, proprio per mettergli un po' di pepe alla competizione, perché veramente ormai tutta la primissima parte di gara, anzi in realtà i 5 sesti della gara di salto con l'asta ormai non vengono neanche più visti, non vengono neanche più seguiti, proprio perché ormai si dice vabbè ci rivediamo dopo con Mondo che prova il record del mondo. Che è un po' una cosa che suona male, Mondo che prova il record del mondo, però quello è il suo soprannome. Comunque nella settimana precedente avevamo visto un Chris Nielsen americano che era andato veramente malissimo, ma malissimo, nel salto con l'asta adesso sembra decisamente in ripresa, quindi è stata un po' una sfortuna, una gara sfortunata quella di settimana scorsa, perché già in questa tappa a Shenzhou ha fatto 5,72, che è già molto più consono con i suoi standard. Nel salto in alto c'è stata una buona misura per quanto riguarda Mischker che ha fatto 2,31 e Mutaz Barshim è salito di 2 centimetri rispetto alla settimana precedente, passa da 2,27 a 2,29. Certo che però bisogna sempre considerare che ormai Barshim non è più il Barshim dei tempi d'oro, quello che addirittura ha tentato il record del mondo. Perché vi ricordo che Barshim ha un primato personale di 2,43, cioè 2 centimetri in meno rispetto al record del mondo, che è tantino, è veramente tanto come primato personale, comunque tra i più forti al mondo, non ci sono storie veramente Barshim è tra i più forti al mondo, ma non è più il dominatore che era prima del 2020. E quindi siamo in un periodo in cui nel salto in alto non esiste il più forte di tutti, ma è sempre un'incognita su chi possa vincere, perché inseriamoci anche Tamberi che è fortissimo, è ai livelli di Barshim, però è anche ai livelli di Kerr, è anche ai livelli di Harrison. Siamo bene o male tutti lì vicini come primati personali, anche come rendimento di gara, il che rendono di fatto la gara di salto in alto decisamente competitiva, e anche interessante da vedere, perché non sai mai come possa finire, letteralmente il contrario di quello che avviene nel salto con l'asta. Per quanto riguarda le gare di velocità, mi sento di dire che non sia per nulla una pista veloce, quella di Shunzu, perché non c'è stato nulla di eclatante, nulla di paragonabile a una tappa di Diamond League in questa settimana. Cioè nei 400 metri abbiamo sia avuto la Paulino, che ha vinto la gara, ma in 50 e 89. I 200 metri donne sono stati vinte dalla Daryl Nate alla britannica con 22,62. La Richardson addirittura sopra i 23, ha fatto 23,11. E anche nei 100 metri maschili nessuno ha brillato particolarmente. Il migliore è stato a cani simbine con 10,01. Quindi ecco le due piste cinesi, Xiamen prima e Shunzu adesso, non sono assolutamente amiche della velocità, perché in nessuna gara è arrivato un risultato particolarmente interessante, nonostante il cast di atleti fosse enorme. Poi è anche vero che una cani simbine non stia cercando assolutamente di fare il minimo diretto per quanto riguarda Parigi, perché lui è già qualificato automaticamente. Visto che per la partecipazione gli vale il suo 9,97 fatto l'anno scorso, a luglio, quindi già con la finestra temporale aperta per quanto riguarda il minimo di partecipazione per i giochi olimpici. Però discorso velocisti lasciamolo un attimo da parte, lo riprendiamo dopo quando finiamo di parlare della Diamond League. Nei 100 ostacoli femminili è stato un gran peccato perché la gara è stata ritardata più e più volte. C'è stata la falsa partenza di Toby Amusan, c'è stato comunque diverse volte che chiamavano al tempo, quindi gara un po' nervosa possiamo dire. Cioè con atlete che era facile che si deconcentrassero proprio durante la gara stessa, cioè prima di partire è probabile che alcune si siano deconcentrate. Infatti i risultati sono stati leggermente peggiori rispetto a quanto fatto settimana scorsa. Però comunque la spunta alla fine Camacho Queen con 12,63 che non è un tempo da mani nei capelli, ma è comunque un buon tempo. Nei 5.000 metri in Diamond League la spunta Selemon Barega è atleta etiope, che arriva a 4 secondi dalla miglior prestazione mondiale di quest'anno, e quindi ferma il crono a 12,55,68. Comunque si tratta di 12 secondi sopra il suo primato personale, che non è poco, però comunque gli è bastato per vincere la gara, vincersi i suoi soldi e fare anche il record del meeting. Cosa non particolarmente difficile, visto che non è da tanti anni che fanno la Diamond League a Shunzu, però comunque la soddisfazione di fare anche il record del meeting se l'è presa. Nei 110 ostacoli la spunta alla fine Daniel Roberts, l'atleta statunitense, che ferma il crono a 13 e 12. Però vorrei sottolineare anche la presenza in seconda posizione di Shunzu Kei Izumiya, ovvero l'atleta giapponese che bene o male sta immergendo sempre di più, un'atleta molto stabile a livello di prestazioni, è un classe 2000 quindi ha ancora diversi anni di carriera davanti, e non mi stupirebbe se già quest'anno fosse uno dei protagonisti della scena mondiale negli ostacoli. Da che arriva secondo in Diamond League è abbastanza indicativo del fatto che è già tra i migliori al mondo, però un ulteriore step secondo me potrebbe tranquillamente farlo. Però dai parliamo subito di una cosa che ha fatto tanto discutere, ovvero l'esordio di Marcel Jacobs, che ha fatto 10 e 11 con più 0,9 di vento a favore. Dobbiamo però mettere un po' di contesto a questa prestazione. È stata fatta da uno che è il campione olimpico in carica, e quindi si presume che riesca a qualificarsi senza particolari problemi ai giochi olimpici, cosa che per ora non è qualificato, perché per il ranking non si sa fino all'ultimo, per ora non ha abbastanza punti per qualificarsi, e il minimo di partecipazione diretta che è 10 e 0,0 non l'ha ancora realizzato. Però di contro questa gara non era assolutamente preparata. Jacobs ha detto che non ha preparato questa gara, cioè non ha scaricato in vista di questa competizione, è stata una gara semplicemente per rompere un po' il ghiaccio, per riprendere e gareggiare dopo praticamente sette mesi dall'ultima gara, e quindi questo fa capire che la sua programmazione non è di certo per fare un forte tempo adesso. Cioè fare un 9,90 adesso non serve assolutamente a nulla, perché i due grandi eventi saranno a giugno ai campionati europei e ad agosto ai giochi olimpici. E poi adesso Jacobs si stava preparando per i mondiali di staffette, le World Relays, che saranno il 4 e il 5 di maggio. E proprio per quello, considerate che per dire, lui ha detto che ha fatto una partenza brutta, non si è piaciuto particolarmente in partenza, ma sul lanciato è andato bene. E ai mondiali di staffette è il lanciato la cosa importante, perché non si parte con i blocchi, o almeno Jacobs, che è in seconda frazione, come al solito, non parte con i blocchi. Quindi l'importante è la fase lanciata, che è quella che sta andando bene adesso. In più, se mi fai un 10,11 sotto carico, e fai una partenza non bella, vuol dire che lui vale già ampiamente sotto i 10 secondi. Quindi, in teoria, non dovrebbe stare troppo a inseguire il minimo di partecipazione diretta, perché dovrebbe riuscire a farlo senza particolari problemi, pian piano che procediamo con la stagione. Anche perché, come ho detto nel video delle news, adesso i top player, i migliori atleti al mondo, non stanno andando forte, proprio perché siamo in un periodo di preparazione ancora in cui non stanno scaricando per le gare. Cioè, Noah Lyles, campione mondiale, super mega forte, ha fatto comunque 9,96 aiutato da 3 di vento a favore. Abbiamo visto a Cani Simbine 10,01, Coleman è a 10,04, Kerley è sopra i 10,10 nell'ultima gara. Quelli che stanno andando forti adesso sono quelli, diciamo, i nomi nuovi, quelli che devono far vedere che vanno veloci, quelli che devono subito finalizzare adesso per fare i minimi di partecipazione. E quindi sta andando forte un Christian Miller, un 17enne che ti fa 9,93. Ti sta andando forte un Eaklin che fa 9,94. Oppure il nigeriano Ashi che fa 9,99, sono tutti atleti che la maggior parte di voi non ha mai sentito nominare. Perché sono atleti che puntano adesso il prima possibile a fare il primato personale per potersi garantire partecipazioni ai grandi eventi, inviti in Diamond League e quant'altro. Ma questo non soltanto nei 100 metri, anche nei 200 sta succedendo la stessa cosa. Per dire, Courtney Linsday ha fatto 19,71 adesso. E sì, va bene che aveva 19,85 l'anno scorso, però lui, essendo statunitense, è comunque nel mondo in cui ci sono Liles, Coleman, Kerley, tutti atleti veramente forti, quindi un 19,85 un po' si perde nella massa, rimane un po' nell'ombra. O se no, un 19,90 dall'ugandese Orogot. O il 19,93 del Zimbabweese, si dice Zimbabweese? Cioè, dello Zimbabwe, Karau. Cioè, anche a leggerlo qua sotto, comunque difficoltà a dirlo. L'unico che esce un po' da questa logica è Tebogo, che sta andando fortissimo già adesso. 19,71 nei 200, il record del mondo con 30,69 nei 300, un 44 scarso nei 400. Cioè, veramente, lui è un po' fuori da questa logica dei top player che adesso non vanno forti. E quindi, già come dicevo settimana scorsa, o Tebogo ha sbagliato completamente la programmazione, o quest'anno ci fa cose assurde. Spero non è la seconda. Ma attenzione perché anche con le donne sta avvenendo la stessa identica cosa. Cioè, ho detto prima che la Richardson nei 200 metri ha fatto sopra i 23. Chi sta andando forte è uno dei nomi nuovi. È Jachurs Sears, che ha fatto 10,77. O Aleia Ops, che ha fatto 10,88. Che certo, Aleia Ops non è un nome nuovo, però comunque l'anno scorso, per dire, non è andata a livello individuale ai campionati mondiali. Quindi ecco adesso chi è abbastanza sicuro e tranquillo di riuscire a partecipare al grande evento del 2024 è ancora abbastanza tranquillo, sta ancora andando, diciamo, lento, per così dire. Comunque rispetto al suo potenziale sta andando lento. E chi va forte adesso è chi si deve far scoprire, chi deve provare a prendere il posto in Diamond League in maniera tale che, avendo il posto in Diamond League, può avere più soldi nel caso dovesse arrivare in buone posizioni, si fa conoscere di più per ottenere sponsor. E comunque, appunto, adesso va forte chi si deve far conoscere, non chi ha in mente di prendersi una medaglia ai giochi olimpici. E poi, ovvio, ci sono sempre le eccezioni del caso. Ma torniamo un po' a noi, torniamo un po' nella nostra Italia, perché parliamo di Johan Kripp... Johan Krippa... Johan Krippa! Cioè, è un misto tra Johan Blake, Jeman Krippa, praticamente è una bestia in ogni singola gara di velocità e resistenza. Però, vabbè, vabbè, vabbè. Torniamo noi. Jeman Krippa. Vi segnalo subito che nel video delle news ho fatto un errorone, perché ho detto che il record precedente nella 10 km su strada era di, sì, Johannes Chiappinelli, su questo era giusto, ma vi ho detto Federico Riva. In realtà, avevo fatto un po' di confusione perché nella stessa news avevo anche parlato di Federico Riva. In realtà, il record precedente nella 10 km su strada era sia di Chiappinelli, sia di Riva, ma Pietro Riva, non Federico Riva. Comunque, in ogni caso, il record non è più suo perché Jeman Krippa ha fatto 27,08 nei 10 km su strada in Germania ed è un tempo notevolissimo. È un tempo che fa capire come Jeman Krippa, nonostante ormai sia sempre di più maratoneta, sia ancora un atleta decisamente veloce anche sulle distanze più corte e qua ci metto le virgolette per forza di cose. Perché questo tempo di 27,08 oltre ad essere vicinissimo per un solo secondo al record europeo di Jimmy Gressier è anche inferiore rispetto al suo risultato sulla pista. Infatti Jeman ha come record nazionale su pista nei 10.000 metri 27, 10 e 76. Fatto però 5 anni fa. Quindi vuol dire che nonostante si stia preparando per la maratona, nonostante abbia allungato decisamente le distanze, non ha perso la sua velocità di base. Addirittura lui si è stupito, lui stesso si è stupito di questo risultato perché sapeva di andare veloce, sapeva di valere un tempo sotto al record italiano, però pensava di fare sui 27,5 non 27,08 e ormai Jeman Krippa è totalmente il dominatore indiscusso del mezzofondo italiano e anche del fondo direi. Cioè lui ha i primati nazionali assoluti in 3.000, 5.000 e 10.000 metri su pista mentre per quanto riguarda la strada ha i 5, 10, mezza maratona e maratona. Tra l'altro in questa gara non so cosa gli sia successo a Jeman perché ha sbloccato totalmente l'ultraistinto. Contate che soltanto 4 mesi fa l'ultimo dell'anno del 2023 aveva fatto il suo primato personal nei 10 km su strada e aveva fatto 28,03 e qui ha fatto quasi un minuto in meno un minuto in meno in una 10 km è veramente un'enormità specie se parliamo di atleti che vanno sotto i 30 minuti perché grazie a tante se passi da un'ora a 59 minuti in una 10 km su strada è nulla come miglioramento però nel momento in cui cominci ad andare sotto alla mezz'ora un minuto si fa sentire e non poco e tra l'altro adesso Yemen ha veramente una scelta enorme per quanto riguarda il suo futuro il suo futuro immediato intendo perché con questo tempo vuol dire tranquillamente che è ancora competitivo anche in Europa nei 10.000 metri quindi potrebbe decidere tranquillamente se fare o i 10.000 metri ai campionati europei oppure la mezza maratona in cui in entrambe le distanze sarebbe estremamente competitivo poi rimaniamo un po' sulla corsa su strada perché questo weekend è caduto il record mondiale di miglio su strada Emanuel Vagnoni che è uno dei più forti 800 metristi del mondo in questo momento ha fatto 3.54 e 5.6 che è un gran risultato però comunque nella storia c'è stato anche di meglio un 3.53 e 3 di Keserek fatto 5 anni fa però è un record molto nuovo quello del miglio su strada quindi 5 anni fa non c'era tutta la trafila burocratica che avviene alla fine di un record del mondo perché se fai il record del mondo nell'esatto momento in cui lo fai dopo la gara bisogna essere sottoposti a un controllo anti-doping e poi se non mi sbaglio non so se prima o dopo ma credo che debba essere fatto prima la strada deve essere esattamente omologata per aver fatto quella distanza anche il dislivello non deve essere troppo alto perché grazie tanti se mi fai un miglio su strada in cui è fatto totalmente in discesa puoi correre come un treno in discesa a quel punto è un po' anche facile fare il record del mondo e quindi anche il dislivello deve essere entro un certo range però comunque queste regole 5 anni fa non esistevano non perché non esistevano in generale nelle gare su strada ma è perché il miglio su strada non era il record del mondo veniva banalmente considerato una miglior prestazione mondiale e oltre alla differenza di prestigio tra queste due cose perché la miglior prestazione mondiale sta un po' sotto rispetto al record mondiale vuol dire che non era neanche necessario avere i controlli anti-doping dopo la gara non bisognava fare tutta la trafila burocratica che c'è adesso per i record mondiali e per quello a livello storico ci sono tempi inferiori rispetto a quanto ha fatto Vagnoni però non verranno mai omologati proprio perché non c'è stato il controllo anti-doping subito dopo non si è controllato bene la distanza del dislivello al livello proprio della corsa in sé e quindi per quello adesso abbiamo un record ufficiale poi la valenza che possa avere meglio su strada è molto discutibile la World Athletics anche per venire incontro con un ampliamento globale che sta avendo la corsa su strada perché comunque è molto molto praticata e anche per attirare comunque nuovi e diciamo adepti nell'atletica l'ha reso record mondiale anche proprio per dare un po' non è il contentino ma per comunque dare prestigio alla corsa su strada devo ammettere che un po' mi dispiace il fatto che il mezzofondo italiano venga spesso messo in secondo piano da altri risultati per dire questa settimana si è parlato tantissimo di Marcel Jacobs perché ovviamente campione olimpico c'è stato l'esordio e bla 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 tutte robe che abbiamo detto prima però il mezzofondo italiano senza farsi notare particolarmente sta andando veramente bene stanno avendo risultati molto ottimi però anche complice il fatto che vengono fatte spesso su distanze spurie in questo periodo non aiuta a capire il vero valore per dire alla ESET VMD Knight che c'è stata all'arena di Milato e di Milato di Milano e che ho avuto il piacere di commentare essere l'aiuto telecronista di Giovanni Balbo sono cadute ben due migliori prestazioni italiane nei 600 metri Eloisa Coiro 1.25.73 realizza quella assoluta mentre tra gli under 23 Francesco Pernici di un solo centesimo che è veramente un non nulla batte la migliore prestazione italiana di Donato Sabia con 1.15.32 che vi ricordo Eloisa Coiro l'anno scorso è scesa per la prima volta sotto i due minuti negli 800 metri però quest'anno a livello 2024 a livello indoor è scesa sotto i due minuti anche a livello indoor tra l'altro fatto proprio in occasione dei campionati mondiali indoor proprio nella gara più importante della stagione il che fa ben sperare per il resto della stagione e quindi se già è sotto i due minuti 1.59.73 anzi no corretto guardo adesso 1.59.76 negli 800 metri indoor vuol dire che teoricamente quest'anno all'aperto scende sotto l'1.59 cioè Eloisa Coiro zitta zitta sta veramente diventando una delle più forti mezzofondiste italiane già lo è in realtà già adesso lo è però continua a migliorarsi anno dopo anno cioè ho qui davanti la sua pagina del profilo della World Athletics che mette proprio anno per anno come sta andando e ha fatto 2.05 nel 2020 nel 2021 è scesa 2.02 nel 2022 è arrivata 2.00 e l'anno scorso 1.59 e 61 e sono pronto a scommettere che quest'anno al netto di ipotetici infortuni perché non si sa mai cosa possa succedere mi immagino che quest'anno sia l'anno del sub 1.50 quindi io l'ho detto mi sbilanzio tranquillamente quest'anno veramente Luisa Coiro andrà fortissima tra l'altro con l'1.25 e 73 che ha fatto nei 600 metri è fun fact la quarantesima più forte nella storia a livello mondiale della specialità certo non si fa molto spesso la gara dei 600 metri però è comunque interessante il fatto che è in top 50 di sempre mentre anche Francesco Pernici è assolutamente uno da tenere d'occhio perché a parte che è un pazzo totale in ogni gara parte a 7.000 all'ora si mette anche davanti alla testa della gara quando è contro i più forti al mondo il che me lo fa stare particolarmente simpatico considerate che però lui è un 2.003 e con l'1 15.32 negli 600 metri fa capire che è migliorato ancora quest'anno cioè non dico che quest'anno arrivi il sub 1.45 negli 800 metri all'aperto però al contempo non mi stupirebbe se dovesse arrivare veramente poi appunto ha ancora 21 anni quest'anno fa i 21 anni ha tutto il tempo per migliorarsi però si sta già imponendo veramente come uno dei più forti in Italia nella specialità e anche qui fun fact a livello mondiale di sempre nei 600 metri Francesco è comunque al 63esimo posto in gradatorio all time e sempre nel mezzofondo italiano attenzione a Catlin Tecuceano che ha fatto veramente un 2.16.73 nei 1000 metri vuol dire andare veramente forti e quindi non vedo l'ora di vederlo su un 800 metri aumentando leggermente la distanza i 1500 metri sono andate veramente bene sia Federica Del Buono sia Marta Zenoni Federica Del Buono ha fatto un 4.05.21 e Marta Zenoni invece un 4.05.71 in un panorama italiano nei 1500 metri in cui sarà difficile scegliere chi debba andare poi ai campionati europei sia a quelli sia ai giochi olimpici in un panorama italiano dei 1500 metri che sono molto molto pieni di atleti forti per dire altre che potrebbero andare veramente bene in questa stagione sono Ludovica Cavalli Giulia Aprile Sinta Vissa e anche Nadia Battocleti sono tutte atleti che potrebbero fare veramente molto bene nei 1500 metri mentre non è stata particolarmente brillante Nadia Battocleti che ha fatto un 4.08.51 però per Nadia secondo me non dobbiamo particolarmente preoccuparci perché non dimentichiamo che ha migliorato il primato personale a inizio aprile nei 10 km su strada con 31.19 quindi magari mi sbilancio adesso siamo in un periodo in cui ha fatto tanti volumi e deve ancora scendere con le distanze per velocizzarsi un po' quindi va bene è stata una gara che non è andata particolarmente bene non è stata devastante però per una gara sola non bisogna allarmarsi anche perché se gli atleti dovessero gareggiare solo quando fanno cose sorprendenti avremo una gara alla stagione per certi atleti forse neanche quella che è stata ancora una volta devastante e ormai una settimana si e l'altra pure mi tocca parlare delle cadette è stata Alessia Succo che ha fatto 10.76 negli 80 ostacoli però c'è stato più 2.9 di vento a favore quindi verrà comunque registrato nelle gradatori all time come miglior prestazione italiana ventosa quindi con ogni condizione però non andrà a eliminare l'11.02 di Veronica Besana che è l'attuale record italiano cadette però rimango sempre più convinto è questa l'ennesima dimostrazione che quest'anno Alessia Succo questo record se lo prenderà e anche tranquillamente perché anche con un ipotetico vento nullo vale comunque sotto gli 11 secondi negli 80 ostacoli ah e poi come se non bastasse nella stessa giornata si è anche limitata a prendersi il minimo di partecipazione nei 300 piani con 30 e 84 e anche qui rimango sempre più convinto che se dovesse prepararli un attimo si prenderebbe il record italiano anche nei 300 ostacoli per concludere un po' dei risultati internazionali non so se vi ricordate ma un po' di tempo fa avevo pubblicato un video su Candace Hill che è stata una delle più grandi stelle nascenti dell'atletica era veramente assurda e devastante cioè era una roba così folle che a 16 anni aveva fatto 10-98 nei 100 metri e 22-43 nei 200 poi come vi ho raccontato si è persa questo talento e però adesso siamo diciamo in una redenzione da parte di quest'atleta in cui pian piano continua a riavvicinare i vecchi fasti certo non si tratta più dell'enorme talento che era prima perché adesso ha 25 anni lei è una classe 99 però il 2024 è già diventata la sua seconda miglior stagione di sempre nei 100 metri ha fatto 11-01 con più 1,9 diventa a favore però comunque si tratta però si tratta dell'ennesimo progresso che sta avendo quest'atleta e quindi è bello vedere anche questa sorta di rinascita lenta e costante nel tempo di quest'atleta che aveva fatto sperare davvero tanto diversi anni fa però che ormai non potrà di certo lottare per i primi posti al mondo ma si sta comunque ritagliando di nuovo un suo spazio una cosa che mi era sfuggita nelle news della settimana era sì il fatto che Femke Ball avesse fatto una doppia gara nei 100 e nei 150 metri nella stessa giornata ovviamente come test e nei 100 aveva fatto 11-47 e nei 150 17-10 però mi era sfuggito il fatto che la sua compagna di allenamento e con nazionale Claver avesse fatto la stessa identica cosa nella stessa giornata ha fatto 100 e 150 metri e tra l'altro con risultati migliori rispetto alla Femke Ball nei 100 ha fatto 11-33 e nei 150 ha fatto 16-96 nei 100 metri è un notevolissimo risultato un 11-33 con 20 nullo perché vuol dire che in questa stagione a livello mondiale si piazza al 108 posto considerando che lei è una quattrocentista e che poi si è fatta anche un 150 molto molto bene la Claver ultimo commento delle notizie della settimana voglio commentarvi il video che ha messo Noah Liles sul suo canale YouTube che tra l'altro non l'ho ancora visto neanche oggi mannaggia me devo assolutamente recuperarlo però di base ho guardato in velocità qualcosina mi piace tantissimo che un campione del suo calibro metta un video su YouTube in cui fa vedere anche parti del suo allenamento fa vedere anche le andature e di certo lo fa sentire più vicino a noi comuni mortali possiamo dire che un atleta del suo calibro si racconti si apra anche ad altri non tenga tutto nascosto tutto nella sua bolla e credo che questa cosa lo faccia anche risultare molto più simpatico agli occhi di tante persone che sempre su questo argomento vi ricordo che esiste il canale YouTube anche di Mattia Furlani che anche lui ogni tanto carica qualcosa ed è molto interessante anche quello e speriamo che questa cosa poi pian piano venga fatta da sempre più atleti perché è comunque interessante vedere anche magari qualche loro pensiero sentirli parlare di magari non per forza solo del sono andato bene sono andato male ma far vedere come al solito che piace tanto a me far vedere che gli atleti non sono solo macchine da prestazione ma sono anche delle persone con anche altri interessi e altri pensieri a riguardo e così finiamo la seconda puntata di Atleti Caffè spero che vi stia piacendo questo format a me piace un sacco cioè mi tocca parlare per tantissimo tempo ma quello non è un problema ma riesco anche ad approfondire molto meglio diverse notizie che do molto in velocità al lunedì per non perdervi altri contenuti vi ricordo di iscrivervi al canale magari lasciare anche un mi piace per supportarlo un po' vi ricordo che c'è la possibilità di abbonarsi per supportare tantissimo il canale e fatemi sapere anche cosa pensate di Atleti Caffè se vi sta piacendo come format e non mi resta che augurarvi buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare ciao ciao ciao